Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi parleremo di Ethereum, infatti pare che sia pronto ad un'esplosione verso l'alto. Vi farò vedere quali sono i dati. Parliamo ragazzi di dati scientifici, non di mie opinioni o di opinioni di alcuni analisti che stanno facendo credere che potrebbe salire, ma in realtà potrebbe non salire. Vedremo quali sono questi dati e quali le notizie fondamentali a sostegno di questa tesi. Il target infatti pare essere 50.000 dollari entro il 2030. Per farvi capire cosa significa ragazzi, significa che andiamo ad investire sicuramente in un settore che è quello delle criptovalute che è rischioso e su questo non ci possiamo dire bugie purtroppo. E comunque stiamo andando all'interno del settore delle criptovalute ad investire in Ethereum che è la seconda criptovaluta più capitalizzata del settore cripto. E quindi comunque nel settore cripto è una certezza in quanto già presente sul mercato da quasi dieci anni è sicuramente quella con le prospettive di crescita migliori per quanto riguarda l'esplosione che ci potrebbe essere nei prossimi anni. Ma prima di iniziare e di vedere quali sono questi dati ragazzi vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi a far crescere il canale e per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo come sempre gruppo Facebook, Instagram e Twitter qui sotto in descrizione se volete supportarmi. Sicuramente una cosa che c'è da dire è Ethereum è pronto davvero ad esplodere verso l'alto? Quali sono i dati a sostegno di questa tesi? Partiamo da ciò che è successo nell'ultima settimana ovvero quella che è andata a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre 2021. Nell'ultima settimana infatti, che è stata sicuramente come avrete visto una settimana un po' turbolenta per i mercati delle criptovalute si è sicuramente distinta Ethereum con le sue quotazioni che hanno guadagnato il 7% circa arrivando ad un massimo di 4.600 dollari in alcuni momenti. Come avete visto sicuramente nel video di ieri ragazzi io ho parlato di un beer market in arrivo per quanto riguarda Bitcoin così come mi piace portare tesi a sostegno del beer market mi piace portare anche tesi e dati a sostegno di una crescita del mercato e io, come sicuramente mi conoscete, non sono il tipo di YouTuber che fa due tipologie di video diversi una in cui si scende e una in cui si sale per poi dire alla fine, ma io avevo detto che si scendeva oppure, ma io avevo detto che si saliva. Mi piace semplicemente analizzare i dati e fornire la mia spiegazione per quanto riguarda quello che sta succedendo. Vediamo su Ethereum quali sono questi dati. Il trend infatti è sicuramente in ascesa per quanto riguarda le quotazioni di Ethereum e questo ce lo dice un dato infatti questo nuovo rialzo che c'è stato in questa settimana segue un trend di ascesa che ha contraddistinto Ethereum negli ultimi sei mesi in cui la seconda criptovaluta principale dopo Bitcoin ha guadagnato oltre il 140% quindi per capirci ragazzi parliamo di un guadagno che ci ha fatto quasi triplicare il nostro investimento nell'arco di poco più di sei mesi questo significa che se lo paragoniamo con il rendimento dell'azionario ci vorrebbero circa 11-12 anni investendo 100% azionario per ottenere lo stesso rendimento ma andiamo a vedere qual è il motivo di questa salita secondo gli esperti infatti i motivi di questi guadagni sarebbero legati soprattutto all'aumento dell'adozione di token non fungibili ovvero gli NFT che sono un acronimo di non fungible token in inglese e dei progetti DeFi che cos'è la DeFi ragazzi? è la finanza decentralizzata che è praticamente l'ultima avanguardia del settore finanziario che sta andando rapidamente verso un'adozione di massa proprio per la velocità con la quale vengono dati prestiti e vengono creati smart contract che praticamente sono dei contratti dovete pensarli simili a contratti quando noi andiamo ad acquistare una casa andiamo dal notaio e il notaio ci fa il rogito del contratto così dobbiamo pensare lo smart contract all'interno della blockchain quindi con questo smart contract vengono legate due parti una che presta soldi e una che li riceve dando come collaterale una quantità di criptovalute che vengono svincolate alla restituzione del prestito avuto quindi dicevamo l'adozione di Ethereum è dovuta principalmente agli NFT e alla DeFi che girano sulla rete Ethereum che rimane ancora quella di gran lunga più utilizzata per i progetti e le app del mondo della DeFi alla fine di ottobre vi ricordo che il Chief Executive Officer e fondatore di 8BV società di consulenza del mercato delle cripto Michael Van de Poppe ha tweetato che la seconda valuta digitale per capitalizzazione poteva presto raggiungere la quotazione di 6.000 dollari parliamo della fine di ottobre secondo un recente sondaggio infatti effettuato dalla società di ricerca Finder interpellando una serie di esperti ed analisti di criptovalute il prezzo di Ethereum dovrebbe superare i 5.000 dollari entro la fine di quest'anno raggiungere i 15.000 entro il 2025 e superare addirittura i 50.000 dollari entro il 2030 ma queste date ragazzi sono state messe a caso? sicuramente no se conoscete un minimo il settore delle criptovalute saprete che le tappe le date a livello temporale le tappe temporali della crescita dei prezzi vengono scandite dagli halving del bitcoin che vi ricordo essere presenti ogni 4 anni in quanto viene dimezzata la ricompensa data ai miner che stanno minando criptovalute per quindi andare ad incrementare l'offerta e l'offerta viene incrementata ogni 4 anni sempre della metà rispetto ai 4 anni precedenti insomma queste quotazioni sicuramente lasciano stupefatti ma sembrano comunque supportate anche da alcuni dati incontrovertibili come quelli rilasciati da JP Morgan che ha affermato che i futures su Ethereum sarebbero molto più richiesti di quelli su bitcoin dagli investitori istituzionali quindi si pone ragazzi una questione di battaglia tra bitcoin ed Ethereum Ethereum infatti al momento inizia ad essere considerata da alcuni investitori come riserva di valore migliore rispetto a bitcoin queste performance infatti che abbiamo visto per quanto riguarda Ethereum non sarebbero dettate solo da motivi legati all'adozione della moneta per la diffusione dei progetti DeFi e di quelli NFT ma anche dal fatto che la moneta comincerebbe ad essere considerata una riserva di valore migliore del bitcoin a sostenere questa tesi è un team di ricercatori australiani dell'università di tecnologia di Sydney che hanno scritto che Ethereum sarebbe da considerare come uno strumento finanziario meno inflazionistico di bitcoin ma perché qual è la matematica dietro questa affermazione perché anche ragazzi se non riuscite ad entrare nei dettagli comunque i numeri ci danno sempre riferimento è la base per capire quello che succede infatti vi porto l'estratto della ricerca che hanno condotto i ricercatori australiani si legge infatti nel testo annualizzando il tasso di creazione di Ethereum dall'AP1559 cos'è l'AP1559 ragazzi è l'aggiornamento che è avvenuto ad agosto 2021 sulla rete Ethereum con la quale si è iniziato a bruciare Ethereum che sono Ethereum pagati come parte delle commissioni per effettuare transazioni sulla sua blockchain quindi dall'aggiornamento AP1559 noto anche come aggiornamento London l'aumento previsto dell'offerta totale di Ethereum è solo dello 0,98% ovvero meno della metà dell'aumento dell'1,99% dell'offerta di Bitcoin che è quasi certo nello stesso periodo i ricercatori quindi hanno concluso dicendo che Ethereum fornisce migliori proprietà di copertura inflazionistica rispetto a Bitcoin al momento ed Ethereum può quindi offrire una conservazione del valore a lungo termine superiore rispetto a Bitcoin ma questo chiaramente parlando in termini attualizzati mi spiego meglio cosa significa Bitcoin al momento ha quella produzione di nuove monete ma fra due anni ragazzi fra due anni e mezzo quando ci sarà il prossimo Alving la ricompensa dimezzerà e quindi si riporterà nuovamente al pari di Ethereum come creazione di nuove monete e questo può essere davvero considerato come una sfida che alla lunga nessuno può dire da chi sarà vinta ma per quanto riguarda Ethereum sicuramente dobbiamo considerare a stretto giro la possibilità che entrino sul mercato nuovi ETF nella seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato infatti quello che potrebbe definitivamente far esplodere le quotazioni di Ethereum è la possibile approvazione nel 2022 dei primi ETF secondo le prime indiscrezioni la SEC che è l'autorità di regolamentazione dei mercati degli Stati Uniti sarebbe in procinto ad inizio anno di dare l'ok al primo ETF sulla seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato i trader quindi cosa stanno facendo? sicuramente si stanno muovendo e stanno iniziando a considerare le varie opportunità e stanno ora scommettendo sulla concreta possibilità che entro marzo si possa avere un ETF su Ethereum parliamo di marzo 2022 infatti ha detto il Financial Times Luke Stryker Chief Commercial Officer di Deribit una delle più grandi società di future ed opzioni sulle cripto che in parole povere il mercato sembra rialzista per quanto riguarda il potenziale di Ethereum entro la fine dell'anno o il primo trimestre del 2022 inoltre sempre secondo Strykers si starebbe verificando una vera e propria esplosione dei contratti derivati che danno agli investitori il diritto ma non l'obbligo di acquistare Ethereum a 15.000 dollari a marzo del prossimo anno e questa sarebbe la prova matematica del fatto che alcuni investitori stanno scommettendo su una ipotesi di questo tipo che potrebbe avere un vero e proprio volano per le quotazioni di Ethereum quello che dobbiamo sapere ragazzi è che è vero che i derivati vanno a seguire il sottostante e sono prodotti di investimento ad alto rischio ma quando vengono creati alcuni derivati proprio la loro creazione potrebbe influenzare come è successo in tantissimi altri casi e vi invito ad andare a fare le vostre ricerche personali per rendervi conto di quello che sto dicendo e per confermare quello che vi sto dicendo quando vanno a creare alcuni derivati questi a loro volta possono avere un riflesso indiretto o addirittura diretto sul mercato di riferimento quindi il fatto che venga creato un derivato per ethereum con prezzo a 15.000 dollari a primo trimestre 2022 vuol dire che alcuni investitori potrebbero andare ad acquistare ethereum sul mercato regolamentato quindi sugli exchange regolamentati che creano i prezzi delle criptovalute in attesa di una possibile esplosione del prezzo fino a quel valore detto questo ragazzi io come sempre però vi ricordo che non sono un consulente finanziario è che vi raccomando sempre di fare le vostre analisi prima di investire soprattutto nel settore delle criptovalute se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel commento lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti